Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per una nuova presentazione, un saluto a tutti quanti, come al solito grazie mille come sempre per le visualizzazioni iscritti, grazie come al solito ragazzi e siamo quindi in compagnia della nostra lampada HQL o ai vapori appunto di mercurio, un po' tossici, perfetto ragazzi ed ecco sulla guida DIN possiamo vedere che ha già preso posizione il nostro fusibile o meglio la nostra scatola porta fusibile allora lui è già pronto ma vedo che ti manca qualcuno, sì effettivamente ragazzi il nostro amico magneto termico non lo utilizziamo questa volta perché? Perché ricordiamo che il nostro magneto termico che abbiamo utilizzato fino adesso praticamente tiene di massimo 1A cioè C1 equivalente a 1A scusate ragazzi gli altri purtroppo devono essere nell'armadio da qualche parte ma io devo avere il tempo di cercarli altrimenti sono fritto non ecco solamente i C1 per fortuna altrimenti alcuni circuiti non potevo farli funzionare comunque sia ragazzi per adesso appunto per comodità appunto togliamo il nostro magneto termico e rimettiamo ditemelo voi come si chiama questo ragazzi? Beh ditemelo voi, scrivetelo sotto, scrivetelo sotto ragazzi esatto proprio lui, rimettiamo un selettore classico perfetto o appunto deviatore in questo caso perché appunto gli abbiamo messo ancora al tuo contatto perché? Per non farlo cadere come sempre ma ne utilizziamo uno solo perfetto ragazzi, attenzione adesso a una cosa allora, le nostre lampade HQL o i vapori di mercurio sono un po' bastardelle tra virgolette perché anche loro hanno bisogno di uno spunto di corrente piuttosto elevato ancora più elevato rispetto alla lampada a sodio e alle lampade appunto agli ioduri metallici questo qua è un modello, o meglio, un modello, una lampada da 80 watt ok, l'avevamo già visto sulle stesse due dell'ultima volta questa qua appunto è da 80 watt per una lampada da 80 watt la richiesta di corrente nell'istante appunto iniziale quando io appunto accendo nell'istante dell'accensione richiede una corrente, un picco di corrente bello elevato che automaticamente passerà attraverso il mio fusibile se il fusibile non è di portata sufficiente salta e quindi poi dobbiamo mettere un altro ovviamente e quindi un fusibile che uno dice ebbè ma che cavolo beh, qualche ampia dovrebbe bastare col cavolo col cavolo ragazzi perché? allora, in questo caso noi nel porta fusibili adesso io non lo apro perché sono sotto tensione e non vorrei mai subire un pennoso shock elettrico ok ragazzi comunque qui dentro gli abbiamo messo un fusibile da 6 ampere abbiamo visto 4, 6, anche 16 ci vuole almeno uno da 6 perché la richiesta iniziale di corrente è piuttosto elevata 4 ampere non bastano ancora ok, o meglio no, 4 ampere bastano, cosa dico? diciamo che sono 3,80 all'incirca ok, ma se noi mettiamo quello da 4 siamo al limite e salta comunque ok ragazzi e allora accendiamo i riflettori e putiamoli sulla nostra lampada HQL o i vapori di mercurio io sono a posto è tutto collegato sono pronto e quindi adesso diamo alimentazione un secondo perché come al solito questi interruttori qui i nostri amici selettori sono duri come il muro ed ecco il fatto che l'abbiamo attivato perfetto ok come al solito abbiamo la fase di preriscaldamento in cui la lampada si deve scaldare o meglio la bobina sì la bobina o l'ampolla interna deve scaldarsi e raggiungere la sua temperatura massima perfetto vediamo un po' se si vede possiamo osservare appunto le variazioni del colore rosso prodotte appunto dalla lampada che praticamente aumenta sempre di più di temperatura e quindi si sta scaldando vediamo appunto il rossore ok che appunto è prodotto dalla polvere di mercurio perché il mercurio una volta sollecitato appunto dal calore dall'alta tensione assume la tipica colorazione rossa e ragazzi ah c'è canto una volta accesa ma per quello che mi piacciono tanto queste lampade qui ma come fanno o non piacciono ma dico io ma come fanno ok ragazzi una lampada da illuminazione stadio eh comunque e infatti come avevo già detto le utilizzeremo poi per un progetto che ho già in mente ovviamente queste sono state bandite appunto anche per il consumo e quella un po' la rottura di balle ok ragazzi non è saltato niente effettivamente perché gli abbia messo un fusibile da 6 ampere ok perfetto ma qualcuno magari adesso dirà ah 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 ma magari questo qua sta dicendo un sacco di balle magari c'è dentro un fusibile da 2 ampere e vuol fregarmi dicendomi invece che c'è un fusibile da 6 siamo sicuri? e allora ragazzi come al solito intanto aspettiamo che raggiunga lo stadio massimo di luminosità non c'è trucco e non c'è inganno e andiamo quindi poi a vedere che fusibile ci sarà dentro nella sua scatola porta fusibili ok perfetto dovremmo aver raggiunto sì data la luminosità bagliante accecante dovremmo aver raggiunto lo stadio massimo adesso come al solito quando io la spengo è bollente e non posso riaccenderla subito questo ce lo ricordavamo giusto ragazzi perfetto perfetto ok ecco fatto perfetto l'abbiamo spenta ok bene e vediamo il tipico rossole ovviamente del mercurio perfetto bene siamo a posto aspettiamo un attimino perfetto e adesso ci siamo ok dobbiamo togliere tensione altrimenti poi magari rischiamo di prendere la scossa e adesso andiamo appunto a vedere che fusibile abbiamo messo dentro eccolo qua il 6 ampere per cui non c'è trucco non c'è inganno ragazzi perfetto e quindi a chi avrà per dire delle lampade ai vapori di mercurio dovete tener conto appunto che l'impulso iniziale richiesta cioè di corrente sarà piuttosto elevato se non mettiamo almeno un 6 ampere salta ok ragazzi e allora ci vediamo nella prossima presentazione ok un saluto a tutti quanti e alla prossima ciao a tutti